Sarà il bel centro storico di Cosenza a fare da cornice ad una serie di appuntamenti culturali ed artistici che si susseguiranno fino al 30 settembre. Un'estate speciale dunque caratterizzata dalla presenza di tanti eventi d'arte soprattutto contemporanea. L'interessante iniziativa porterà un valore aggiunto ai Temporary Store che saranno sostenuti ed impreziositi da eventi d'arte che ben si sposano con la vocazione del luogo che li ospiterà. Mostre, performance, installazioni, aperitivi con gli artisti e molto altro ancora. Il programma di eventi è fittissimo e gli artisti invitati a partecipare sono tutti di calibro internazionale. Per poter avviare questa originale iniziativa che segna un percorso di rinascita culturale della città, già avviato la scorsa estate con l'iniziativa Notti al Mab, il Comune ha predisposto un locale in Corso Telesio che è diventato la sede del progetto Trendline Gallery. A dare il via alle serate artistiche è stata la personale Città Possibili dell'architetto Ugo Pagliaro. L'artista che vive tra la Calabria e la Toscana fino al 30 luglio stupirà i cosentini con le sue opere dai colori vivaci e metallici e con i suoi progetti di città futuribili. Dal 1 al 15 agosto gli spazi della Trendline Gallery saranno adibiti all'esposizione Il Viaggio di Alice, dei performance Padovani, Adolfina De Stefani e Antonello Mantovani. Dal 15 al 31 agosto sarà la volta di Claudio Grandinetti, artista e scultore cosentino tra i più importanti esponenti della male art internazionale. Nel mese di settembre invece ci sarà l'artista bresciana Marina Borghetti, che per la serata inaugurale ha previsto una performance dal titolo Dance with Colors. L'estate all'insegna dell'arte si chiude con la grande mostra di uno degli artisti cosentini più conosciuti ed apprezzati, Diego Minuti. Cosenza quindi stupirà, affascinerà e coinvolgerà con degli eventi originali ed unici. Con un'estate così conviene restare in città per non perdersi alcun appuntamento e per i turisti in visita in Calabria è obbligatoria almeno una tappa nella bella e vivace città dei Bruzzi.